Oltre 17 milioni stanziati dalla Regione Campania per la realizzazione di progetti di sviluppo individuati nell'ambito della strategia per le aree interne Vallodidiano, dalla prossima programmazione europea 2021-2027 arriveranno anche fondi dall'Unione Europea. Nell'ambito della prossima programmazione, infatti, l'Europa ha deciso di stanziare il 5% della ripartizione per lo sviluppo delle aree interne. Una notizia accolta con grande favore dal Presidente della Comunità Montana Vallodidiano, Raffaele Accetta, che ha da sempre creduto nel programma coinvolgendo il territorio nella realizzazione e nella stesura di un progetto che nelle linee guide e negli obiettivi primari da perseguire fosse il più possibile confacente alla realtà territoriale e alle esigenze della comunità. La notizia che vede l'Unione Europea vicina ad una simile progettazione va quindi a rafforzare un programma di intervento che ha visto l'Italia precursore in questa idea di sviluppo. Consapevole che la strategia delle aree interne non potrà a concretizzarsi nei risultati nel breve periodo, Accetta si mostra particolarmente soddisfatto per le novità aggiunte dall'Europa, i cui fondi della nuova programmazione consentiranno di arricchire e perfezionare il progetto di strategie per lo sviluppo del Vallodidiano. Sentire e leggere che l'Unione Europea destinerà nella prossima programmazione il 5% delle risorse alle aree interne è naturalmente un modo per ritenersi soddisfatti di questa scelta che l'Italia ha fatto in particolar modo, bisogna dare atto a chi ci ha creduto, l'ex ministro Fabrizio Barca e che sta producendo risultati importanti in tutta la nazione, in tutte le aree che sono state scelte come aree pilota, compreso la nostra naturalmente e questo ci fa ben sperare perché lo abbiamo sempre detto, la strategia delle aree interne è un momento di partenza che non ha però un termine di scadenza, nel senso che la strategia si concretizza e si realizza nel corso degli anni attraverso un lavoro che noi dobbiamo fare ma che gli effetti si vedranno e si potranno vedere sicuramente a lunga scadenza e non nell'immediato e quindi il fatto che anche l'Europa crede nelle aree interne è un fatto importantissimo che ci stimola ancora di più a fare questo lavoro così come lo abbiamo fatto da diversi anni.